Formare la figura professionale del manager delle imprese cooperative, capace di condurle con un'alta competenza professionale in grado di guidarle verso percorsi innovativi e di sostenibilità. E' questo l'obiettivo del Master di primo livello in Economia e Management delle imprese cooperative, presentato questa mattina nella sede di Pescara dell'Università d'Annunzio. Presidente Mazzari, le imprese cooperative richiedono sempre maggior professionalità e il Master di primo livello va proprio in questa direzione. Sì, intanto siamo molto contenti di aver presentato oggi le seconde edizioni del Master, perché questo significa e certifica che la prima edizione è stata un successo e ha creato i presupposti perché si possa andare avanti rispetto a questa esperienza. Ringrazio l'Università degli Studi di Pescara che ci ha supportato, quindi ci ha stato molto sensibile quando abbiamo proposto questa iniziativa. Ora la sfida è di stenderlo il più possibile anche ad altre associazioni, oltre a Lega Coppa Abruzzo perché diventa un'opportunità per tutti coloro che lavorano nel mondo della cooperazione. Presidente, nel corso della cerimonia di presentazione sono state consegnate le prime due borse di studio intitolate all'imprenditore Roberto Falà prematuramente scomparso, una figura importante che ha dato molto in questo settore. Sì, noi siamo ormai alla terza edizione di queste borse di studio. Diciamo che Roberto Falà, che è stato vicepresidente di Lega Coppa, una figura importante che con il suo esempio ha dato lusso al nostro movimento, ci ricorda, nella sua borse di studio, il valore della cooperazione come un modello di realizzazione nel pieno rispetto delle norme, delle persone e dei valori che rappresentiamo. Professor Orgitto, partiamo subito da questa seconda edizione di questo Master. A chi è rivolto e con quali finalità? È un Master di primo livello in Economia e Management delle imprese cooperative. È rivolto quindi a laureati triennali che hanno interesse ad approcciarsi al mondo della cooperazione, delle cooperative in particolare. L'obiettivo del Master è quello di creare imprenditori, manager specializzati che possano contribuire allo sviluppo non soltanto delle imprese cooperative ma ovviamente in particolare poi all'economia del nostro territorio.